Dunque a voi ragazzi che dovete sfidare il mercato competitivo non posso che dire di tener duro e di cercare di mantenere sempre viva la motivazione pensando che se l'obiettivo è lì si può raggiungere con la determinazione, a volte si cade però è proprio da quella caduta che si può trovare la forza poi per andare oltre e a me è successo quindi posso dire che si può fare, bisogna solo stringere i denti e credere in se stessi. Secondo la mia esperienza quando si vuole raggiungere un obiettivo bisogna crederci fino in fondo e non bisogna pensare che non lo si possa raggiungere a priori ma bisogna trovare il modo giusto, lo strumento giusto per superarlo come è successo a me con le protesi e non si diventa atleti in un solo giorno ma passo per passo e quindi vi auguro questo, vi auguro di trovare della curiosità piuttosto che della paura in una situazione nuova. Boca al lupo!